E no gastronomia, artigianato, agricoltura, turismo e soprattutto florovivaismo. A Terlizzi si punta su questo, nell'area del mercato dei fiori non può essere altrimenti. I produttori ci credono, nonostante la crisi, continuano ad investire. Un modo spiegano per attirare clientela, anche straniera se fosse possibile. E così la fiera diventa un momento di confronto, ma anche un mezzo per arrivare ad un obiettivo. Si punta sulle tipicità, anche la marmellata di fioroni, per esempio, può essere utile alla causa. I fiori però rimangono il core business, come dicono gli esperti. Valorizzarli significa far conoscere il territorio ovunque. Questo tipo di evento è stato concepito proprio per mettere insieme il florovivaismo e quindi stiamo qui nel territorio, quindi nella patria del florovivaismo con i prodotti locali, quindi artigianato, commercio, turismo. Quindi le sincronie, le collaborazioni tra i settori commerciali sicuramente portano a una crescita generale dell'economia locale. Bisogna valorizzare anche il mercato. Bisogna valorizzare il mercato, certamente, perché comunque è sofferente in quanto i mercati europei comunque con la concorrenza lo mettono in difficoltà. Quindi diversificare. Il nostro ruolo è quello di fare entrare gente qua dentro e quindi mettere insieme quelli che sono altri settori con il florovivaismo per creare delle economie di mercato in sincronia.